Le penose incombenze funebri erano finalmente terminate, ma sul capo di Silvia pendevano ora altre faccende non meno importanti. Intanto c'era da occuparsi di papà, impensabile almeno per i primi giorni lasciarlo solo nella sua villetta piena di ricordi di mamma e di Federica. Decise che l'avrebbe ospitato per un po'. La casa non era grande ma Giulio si era mostrato fin da subito molto comprensivo. Le bambine avrebbero dormito nel letto con loro lasciando la cameretta piena di bambole e di colori al nonno. Con calma avrebbe poi affrontato tutte le questioni pratiche. La successione, la casa di Milano, gli oggetti personali di Federica, le pratiche legali e assicurative, l'automobile. Era comunque fermamente intenzionata a dare battaglia all'amministrazione provinciale. La sua sfortunata sorella non era stata la prima vittima di quel maledetto incrocio. I giornali e le televisioni locali lo avevano ormai battezzato come il bivio della morte e nei bar del paese non si parlava d'altro. C'era stato persino un gruppo di cittadini che aveva dato vita a un comitato per esigere dal comune e dalla provincia la costruzione di una rotonda. Dai primi rilievi la stradale aveva appurato che Federica procedeva a velocità molto elevata. Era fatta così. Riteneva di essere immune da qualsiasi pericolo. La sua vita era una continua sfida con gli altri e con se stessa. Tuttavia il conducente del tir, contro cui la sua BMW Cabrio si era scantata, non aveva rispettato la precedenza. Ci sarebbe stato un processo in sede penale e in sede civile, così le aveva spiegato un amico avvocato, che si sarebbe concluso con un concorso parziale di colpa e un congruo, anche se non totale, indennizzo agli eredi. La sola idea di un risarcimento in denaro ripugnava a Silvia. Nulla, infatti, avrebbe potuto compensare il dolore per la perdita di quella giovane vita. In cuor suo aveva già stabilito che avrebbe devoluto parte della somma alle associazioni delle vittime della strada. Quello che avete ascoltato è un estratto dal secondo capitolo di L'amore non lo vede nessuno di Giovanni Grasso in libreria per Rizzoli. Io sono Dario Albertini e vi do il benvenuto a Callax. Callax, i libri dell'estate. O magari sarete voi a darmi il benvenuto mentre vi vengo a trovare sotto l'ombrellone al mare o al lago oppure su un prato di montagna o magari a casa con la mia libreria itinerante. Bentornati. Allora, innanzitutto mi scuso per la voce. Andando in giro col mio carrettino, col mio furgoncino, con i vetri sempre aperti, beh, passo dal sole all'ombra e paradossalmente in piena estate. Sono stato colpito da questa entusiasta costipazione che rende la mia voce un po' ruvida e il respiro più evidente. Respiro che mi si è spezzato più volte, a parte per il raffreddore, durante la lettura di questo libro. L'amore non lo vede nessuno di Giovanni Grasso. Avete sentito? L'ho detto poco fa. Lo trovate in libreria per Rizzoli. Perché mi si è spezzato più volte? Allora, innanzitutto perché il titolo mi ricordava qualcosa. Sì, perché il titolo è una citazione dal discorso 34 di Sant'Agostino. Sono poche righe e ve le leggo. Oso dire una cosa alla vostra carità. Osserviamo nelle cose inferiori ciò che dobbiamo riscontrare nelle superiori. Lo stesso amore basso e terreno, lo stesso amore sudicio e delittuoso che si attacca alle bellezze del corpo, ci offre un qualche richiamo per elevarci alle cose più alte e più pure. Ecco un uomo lascivo e disonesto che si innamora di una bellissima donna. Il movente è, è vero, la bellezza del corpo, ma quello che si cerca è lo scambio interno di un amore. Se infatti quel tale ode che la donna lo odia, non ne seguirà forse che tutto il suo trasporto impetuoso per quelle membra attraenti si raffredderà, da ciò che mirava ad avere in certo qual modo si ritrae, si allontana e, offeso, comincia anche a odiare ciò che amava. Forse che è mutata la bellezza esteriore, non le restano forse ancora tutte le doti che l'avevano attratto, certo che restano. La verità è che egli ardeva per ciò che vedeva, ma dal cuore esigeva ciò che non vedeva. Se al contrario s'accorge che lo scambio d'amore esiste, quanto più fortemente se ne infiamma lei vede lui, lui vede lei, l'amore non lo vede nessuno. Eppure ciò che si ama è proprio questo, che non si vede. E a questo punto io potrei consegnarvi il libro e andare via. Perché in queste due, quattro, sei righe e due parole dal discorso 34 di Sant'Agostino c'è già tutto. Quel tutto che non vi posso svelare, granché. Sicuramente vi posso dire che Giovanni Grasso è un apprezzato giornalista, scrittore, autore televisivo e ricopre nell'ambito del giornalismo un ruolo importante in quanto è consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. Questo già dal 2015. E qui va bene, caro Albertini, ci hai dato le note biografiche, ma col libro con Sant'Agostino che c'entra. L'amore non lo vede nessuno. Lo ritrovate fra le pagine di questo giallo. È un giallo esistenziale. Sì, trattandosi di giallo capite bene che io non possa spingermi troppo tra le righe. Però chiedo aiuto già al testo a ciò che vi ho letto. C'è una ragazza evidentemente che non c'è più, Federica, e c'è sua sorella Silvia. Poi c'è un uomo, un uomo misterioso. Un uomo misterioso che si incontra con Silvia tutte le settimane in un certo luogo. E lì parte un racconto. Quest'uomo ha qualcosa a che vedere con Federica. Facile. Ci sarà stata una storia. Non mica vi posso prendere in giro e nascondermi dietro un dito. Sì, c'è stata una storia. Parliamo di amore. Lo dice il titolo che parliamo d'amore. Lo dicono le righe di Sant'Agostino che vi ho letto, che parlano di sostanza, di percezione, di amore che nasce per una via vampata e poi può arrivare la doccia fredda. Io sono più prosaico, evidentemente, di Sant'Agostino e anche di Giovanni Grasso. Ci sono due visioni d'amore in questa vicenda. C'è l'amore, quello degli amanti. C'è l'amore degli amanti. Quello che uno dei due, i protagonisti di questo dialogo, considera l'amore per eccellenza perché non ha sovrastrutture. È difficile da gestirsi, però è libero, è intenso. È proprio il cogliere la bellezza nelle sue varie forme per quella che è. Dall'altra parte, invece, c'è l'amore, vogliamo chiamarlo tradizionale? No, non mi piace. C'è l'amore come lo intendiamo nel momento in cui, avendo cercato per una vita, magari, la cosiddetta anima gemella, riteniamo di averlo trovata. Trovata, sì, esatto, ho detto bene. Oppure è arrivata per caso. Io conosco una coppia, grandissimo amore, che si è creata per magia da un incontro casuale su un autobus che tutti e due hanno preso, chissà perché, per andare in un certo aeroporto. E poi c'è il consolidamento. Quindi abbiamo un amore di un genere da un lato, abbiamo un amore di un altro genere dall'altro, abbiamo una forte presenza di narcisismo. Sarà patologico? Oppure no? Sappiamo di certo che a confronto ci sono due sconosciuti. Quale sarà dei due il narcisista? Eh, non ve lo dico mica, lo dovete scoprire. Dovete scoprire quello che quest'uomo svelerà a Silvia? Scoprirete anche quale patto abbiano stretto. Sì, perché si raccontano tutto, ma c'è un patto. Volete giusto un'anticipazione perché avete capito che non so resistere alla tentazione di darvela? È un patto di riservatezza, quasi banale, no? Però sì, c'è questo. Ho parlato con delle persone che lo hanno letto prima di me. Qualcuno è d'accordo con le mie sensazioni. È avvincente. Avvincente non vuol dire che quello che leggerete vi evocherà le immagini di un film d'azione, ma è avvincente per le dinamiche psicologiche che si incalzano l'una con l'altra. Qualcun altro mi ha detto, mi ricorda invece un film francese. Si parla del cinema, dell'incomunicabilità. Avete presente certi film francesi con tanti silenzi? Ecco, qui i silenzi però non ci sono. Quindi io dissento da questa interpretazione. Quello che vi posso dire, anzi ricordare, è che il libro che vi ho portato oggi con la libreria itinerante di Callax è L'amore non lo vede nessuno di Giovanni Grasso e lo trovate in libreria per Rizzoli. Io sono Dario Albertini, oggi con la voce un po' più ruvida, incespicando ogni tanto perché, mamma mia, Albertini hai fatto il brillante. C'è bisogno di arrivare in spiaggia in costume da bagno? Magari sì, ma se vai a portare un libro sui prati di montagna magari non va bene. Ecco, mettiamola così. Quindi scusate per questa voce che non è esattamente all'altezza e anche per qualche occasione in cui ho inciampato. Tutto questo è Callax. I suggerimenti estivi di lettura di Caffè Italia li trovate tutti sul podcast e sul canale YouTube e troverete anche il successivo dove proverò a raccontarvi, o per meglio dire, a incuriosirvi su un'altra storia che possa aprire un nuovo orizzonte. Callax. I libri dell'estate.